Eurolega, Eurolega, ottimo risultato di Milano. Milano in la seconda giornata di Eurolega, batte Parigi 79-74, grandissima prestazione di Schiltz e Dimitrovic, indubbiamente è stata una partita estremamente difficile, una partita in rimonta, una partita soprattutto che si è giocata al massimo per quanto riguarda l'intensità, ma una Milano che l'ha voluta vincere, ha fatto di tutto per vincere, l'ha portata a casa, questi sono risultati che fanno bene, bisogna però dare continuità a questi risultati anche perché la squadra di Ettore e Mossina è assolutamente la squadra di Ettore e Messina attrezzata per poter arrivare più lontano possibile in questa competizione come lo è anche la Virtus Bologna. Comunque è una vittoria importante, una vittoria che sicuramente fa morale, una vittoria che porta a una sconfitta per quanto riguarda le prime due giornate di Eurolega per Milano che speriamo dia continuità dei risultati. Vi ringrazio sempre per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra, iscrizione gratuite e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!